No, ma io sono venuto qui a Roma perché Roma mi ha chiamato, essendo tifoso della Roma sono venuto con tutta la mia entusiasmo e buona volontà. Finito questo, finisce il mio lavoro. Io una volta firmato avevo già deciso, sapevo che ero venuto qui in un momento di bisogno della mia squadra, del cuore. Per cui, finisce il campionato, finisce il mio lavoro. Diciamo che nelle top squadre la Juventus è un grossissimo punto di riferimento. Essendo un grossissimo punto di riferimento io credo che per la Roma sia vitale avere lo stadio di proprietà. Dopodiché potrà cominciare la rincorsa la Juventus. Senza lo stadio avrà grosse difficoltà.